Ed eccoci arrivati a quello che considero il mio terzo volto professionale, ovvero quello dell'editore. Come forse saprete, io nel 1996 ho creato una casa editrice, la Simonelli editore, che dal 1996 aveva l'idea di produrre libri elettronici, infatti il primo libro elettronico targato Simonelli editore uscito online risale al 1997, alla faccia di tutti gli ultimi arrivati nel mercato degli e-book, i quali ora ci insegnano di essere stati i primi in Italia a fare questo e quello, non mi importa. Forse sono stato io il primo a fare questo e quello, ma non me ne importa nulla, loro dicono quello che vogliono. Io nel frattempo, attendendo Godot, ovvero il libro elettronico, dal 1997 in poi ho pubblicato oltre 80 titoli per la libreria tradizionale, continuando però sempre a sperimentare sull'e-book ed infatti nel 2004, quando ancora in Italia non vi era alcuna piattaforma di distribuzione e vendita di libri elettronici, ho creato ebooksitalia.com che forse è stata la prima piattaforma di distribuzione e vendita di libri elettronici, anche se molti dicono di essere arrivati prima di me, non me ne importa, io ci sono, ci rimango, produco tanti libri elettronici, i libri elettronici di Simonelli editore sono quasi 700 a questo punto, vado avanti a testa bassa, avrei voluto che insieme con me facessero gruppo tanti piccoli editori, giusto per evitare di ricreare online la stessa differenziazione che c'è offline tra piccole case editrici e grossi gruppi editoriali, ma tanti piccoli editori italiani non hanno capito questo mio messaggio e io vado avanti da solo, Simonelli editore forse diventerà grande da solo.